A giudicare del fatto che questa cassiera, in tutta serietà, ha deciso di sposare un peluccio alto 30 cm e privo di organi riproduttivi, a quanto pare è impazzita completamente. Il film inizia con delle scele comiche di altissimo livello produttivo. Durante tutto il primo film, il pubblico ha seguito lo sviluppo della noiosa relazione tra John e Laurie, solo per scoprire nel secondo che è stato tutto inutile, dato che si concorda con un divorzio. Grazie per la perdita di tempo. Clicé, le parole dei personaggi sono all'opposto di ciò che accade un secondo dopo. Le bottiglie sul tavolo si muovono per fatti propri senza venire toccate da Tedda. E al bar è lo stesso, l'etichetta sulla bottiglia scompare in continuazione tra le riprese. Chissà com'è andata questa scena? Ehi, Jeleno, ti piacerebbe interpretare un pervertito nel mio film che palpeggia gli uomini nel gabinetto? Dietro alla porta, di fronte al negozio, tutto in ombra, anche se in realtà è illuminato dal sole. Ted lavora ancora come cassiere, perché il regista in qualche modo ha dimenticato che nel primo film il capo lo avesse promosso a manager. Questo tizio a caso lascia 5 dollari vicino alla cassa, dopodiché i soldi scompaiono nel nulla. Non appena Ted e la sua collega iniziano a parlare di rafforzare la relazione con dei bambini, in quell'istante appare immediatamente una coppia, a dimostrazione della legittimità di questa affermazione. Una specie di adesivo appare sul braccio destro di Tamilin durante la conversazione, ma dopo un momento è scomparso di nuovo. John permette a Ted di usare il suo laptop, sebbene questo sia pieno di video per adulti di cui lui è fortemente imbarazzato. Per gettare nell'oceano i residui, potevano semplicemente legare il sacco a delle pietre e gettarlo in acqua, quindi non ha senso spendere soldi per le tute da sub e andarci di persona. Scherzi a parte, è impossibile violentare un uomo mentre questo dorme. Come può piacere o non se sta dormendo e non sente nulla? E perché il tizio dorme con una lampada in mezzo alle gambe? Quando Tom salta fuori da letto è chiaro che indossa le mutande, quindi cosa stavano guardando questi due pazzi quando hanno tolto la coperta? Un accaduto dal secondo piano su mobile di legno equivale a una fruttura della spina dorsale, ma ovviamente John non si fa nemmeno un graffio. Il proprietario della casa ha chiamato la polizia, saranno qui da un momento all'altro, quindi invece di scappare questi due si nascondono dietro la recinzione. È già strano che un dottore organizzi un tour nel magazzino dello sperma, ma lasciare addirittura un estraneo lui da solo e andarsene è ridicolo sotto tutti gli aspetti. La maglietta quasi completamente bagnata, un secondo dopo diventa asciutta. Questi organi mostrati qui non hanno nulla a che fare con le ovaie delle donne e si trovano nel posto completamente differente. I funzionari si sono interessati allo stato giuridico di Ted solo quando ha cercato di adottare un bambino e fino a quel momento a nessuno importava di un peluche parlante che lavora al supermercato e sposa le cassiere. Per non parlare del fatto che, a giudicare dal suo lavoro ufficiale, dal conto in banca e del matrimonio legale, ha già un passaporto che potrebbe essere rilasciato solo dopo che è stato riconosciuto come persona. E se ora tutto questo è stato cancellato sulla base del fatto che non è una persona, allora come può andare da un avvocato e citare in giudizio se è solo un oggetto. Quando l'avvocato chiede all'eroe delle loro condizioni finanziarie, i due sono talmente stupidi da raccontargli dei loro successi e del monopoli. Ok, lasciamo stare il peluche fattone, ma Giona ha quasi 40 anni e si comporta ancora come se ne avesse 13. Il contenitore di ferro si trova a mezzo metro di distanza dal vaso di caramelle, subito dopo i due sono vicini. A quanto pare, Samantha pensa che sia normale fumare droga davanti ai suoi clienti in ufficio e durante l'orario di lavoro. Sam mette il bong da qualche parte sulla sinistra, ma improvvisamente si teletrasporta in un posto completamente diverso vicino al monitor. Ted continua a sferrare i punti morbidi con la forza di Mike Tyson. L'intera faccenda del tentativo di Hasbro di impedire a Ted di diventare una persona sembra una folia completa. Il cattivo vuole aprire Ted e scoprire cosa c'è all'interno, in modo che la compagnia possa rilasciare milioni di peluche animati. Anche se lui stesso afferma che Ted è il risultato di un miracolo e nessuna autopsia aiuterà a ripetere questo processo. E inoltre ha già strappato personalmente Ted a metà, vedendo con i propri occhi che dentro c'è solo del cotone. E ovviamente il CEO dell'azienda multimilionaria, che dovrebbe essere intelligente, si rivela essere un idiota totale da dare via a un piano così inutile e rischioso. Questo dovrebbe essere il suono di un palmo che colpisce una zampa morbida di un peluche. Fossi allora avrei messo il suono del ferro che sbatte sul legno. Mai non avete scelto di avere un figlio vostro? Perché Teddy non ha il pisello. In realtà non hai partorito a causa della tua infertilità, che non ha nulla a che fare con Teddy e il suo organo riproduttivo. Come può Ted ad usare il touch del cellulare se questo risponde solo al tocco della pelle umana? La prima cosa che farebbe un avvocato normale è presentare subito un ricorso. Questo invece dorme in piedi e ci arriva alla fine del film. Non ho capito per quale motivo l'algoritmo di ricerca di Google, sviluppato dai migliori professionisti del pianeta, viene preso in giro da regista di un film trash. La distanza dalla birra alla bottiglia gialla cambia continuamente in mezzo alle inquadrature. Quando gli eroi decidono di rovinare lo spettacolo dei comici, tutti presenti nella sala restano zitti come se fossero solo delle bambole di pezza lasciateli come decorazioni. Le targhe del Massachusetts possono avere solo sei caratteri. Ted si sporca la bocca mentre mangia, ma dopo un secondo è già pulitissimo. È molto strano che l'inquadratura delle chiappe nude arriva solo a metà film. Conoscendo il regista me lo aspettavo nei primi secondi della trama. Davanti a me c'è un peluche stupido e irresponsabile che combina solo guai. Direi che è arrivata l'ora di farli guidare la mia auto e dormire sul sedile posteriore come se niente fosse. A proposito, perché questi guidano di notte? Da Boston a New York sono 4 ore di macchina, quindi se sono partiti il pomeriggio dovevano arrivarci massimo per la sera. I fendi nebbia non funzionano. Cioè funzionano? Cioè no, non funzionano. Ok, Ted guida l'auto premendo i pedali con questi attrezzi speciali, ma in che modo può vedere la strada senza avere una serie di cuscini sotto il sedere? È alto 20 centimetri, al massimo vedrebbe il cruscotto e il volante, mentre qui si trova più in alto di John. L'auto nella corsia opposta scompare nel nulla nel giro di un millisecondo. Ted tiene una sigaretta tra le dita, sebbene non abbia dita è solo una zampa rotonda. Non credo che sia facile dormire in una macchina traballante con la musica a palla, a meno che tu non prenda dei soniferi per elefanti, contando anche lo stridio dei pneumatici e lo striscio con il guardrail. Ed è impossibile che un'auto possa rimanere incastrata nel muro sottile di un finile di legno. Tra l'altro rimanendo sporgente per due terzi. Una tipica luna del film, nello stile di potenti riflettori che illuminano la scena meglio della luce solare. E ovviamente il cliché della luna piena non può mai mancare. E guarda caso, tra tutti i campi che collegano Boston a New York, gli eroi non potevano finire nessun altro posto che nel campo della marijuana a cielo aperto, mentre nel finile c'è una chitarra, un fucile carico e un cappello da cowboy nuovo di zecca. Anche il fucile doveva volare via insieme con Ted, contando che è stato spinto proprio da esso. Ed ecco le scime nordamericane con i pinguini, classici abitanti della foresta, mancano solo dinosauri e gli unicorni. L'auto rimane saldata nel muro fragile per tutta la notte, aspettando pazientemente il giorno successivo per ricordarsi della forza di gravità. John lancia la chitarra a Ted, sebbene non avesse nulla intorno a sé un secondo fa. Ted ha gettato via il bong a curibrezzo, per poi il giorno dopo dimenticarsene e fumarlo come se niente fosse. Quando John rompe il tavolino della reception, la segretaria fa finta che non sia successo niente di strano. Il fazzoletto nel taschino di Patrick di tanto in tanto scompare per tornare di nuovo il suo posto originale. L'avvocato rifiuta il caso di Ted senza nemmeno ascoltare cosa hanno da dirittre, quindi non capisco perché li ha costretti a fare un viaggio di otto ore senza alcun motivo logico. Patrick tiene le mani sotto il tavolo, anche se non sul tavolo, anche se no ancora sotto il tavolo. Ted accusa la coppia di baciarsi invece di concentrarsi sul suo caso e vincere la causa nel tribunale, sebbene sappia benissimo che i due si sono baciati solamente ieri. Ed ecco il secondo film in cui un peluche parlante si aggira da solo per la città e nessuno ci presta attenzione, sebbene in realtà sarebbe già circondato da una folla con i cellulari. Cosa ci fa qui Donny? Ha seguito l'eroe fino a New York anche durante l'episodio con l'incidente e è passato la notte vicino al fuoco? Come faceva a sapere che Ted sarebbe passato per di qui? Non appena Ted entra nel festival del Comic Con, per pura coincidenza si imbatti in un vecchio amico perché si sa che New York è piccola e tutti non fanno altro che incontrarsi di continuo. A proposito, se lui e il suo fidanzato si comportassero davvero in questo modo con i visitatori, verrebbero cacciati fuori dalla sicurezza e consegnati direttamente alla polizia per ricevere una bella multa salata e anche qualche giorno di reclusione. Le scarpe di Samantha cambiano da attacchi alti e dorati a scarpe scure senza attacco. Ted ha il disperato bisogno di un telefono per comunicare con gli amici, quindi dopo la prima chiamata lo getta per terra senza motivo. L'eroe non potrebbe nascondersi tra i peluche novitizzecca perché dopo 30 anni di attività l'usura della pelice si noterebbe a primo sguardo. Dopo aver rapito Ted per iniziare il loro progetto, i cattivi, ovviamente, invece di portarlo nella fabbrica dell'azienda, lo sventrano nello sgabuzzino a fianco. Clicchè dei film, se sferri un pugno a caso nella folla, un attimo dopo tutti combatteranno come se fossero delle NPC di GTA. Il cliché del salvataggio l'ultimo secondo dalla morte non poteva di certo mancare. Dopo questo caos, lo show dovrebbe essere sospeso e l'area dovrebbe essere chiusa al pubblico, ma invece dopo 5 minuti vediamo che tutto è tornato alla normalità. Ecco che finalmente appare la sicurezza. Dove si stavano rilassando durante la rissa di massa? Per scoprire chi è tra le tartarughe e il cattivo, basterebbe semplicemente ordinare loro di togliere le maschere. John ha ricevuto numerose ferite al momento dell'incidente e dopo ciò ha subito una morte clinica, quindi dopo poche ore è di nuovo allegro e pieno di vita come se non gli fosse successo nulla. E nessun medico prenderebbe parte a uno scherzo del genere, senza rischiare di essere licenziato per la più stupida violazione dell'etica medica. Patrick dimostra in tribunale che Ted una persona in quanto capace di autocoscienza, empatia e percezione di emozioni complesse, cioè tutto ciò che era del tutto evidente alla giuria durante il primo processo, quindi il finale non ha alcun senso, dato che l'amore che ha mostrato per John ferito era un'emozione uguale a quella che ha provato sposando Tamilina. Tamilin si è lontana di mezzo metro tra un'inquadratura e un'altra. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato. Grazie.